Presentato questa mattina nell'aula consigliare del comune di Eboli, l'evento Natale in Beach che si svolgerà presso il Palace Sport Sun in via dell'Atletica ad Eboli il 28, 29 e 30 dicembre. Tre giorni all'insegna degli sport sulla sabbia, in questo caso indoor, durante i quali gli atleti giovani e meno giovani si cimenteranno nel Beach Volley e Beach Soccer. Abbiamo iniziato di lontano 2000 con il Beach Volley e oggi siamo arrivati a Natale in Beach dopo il successo di questa estate che abbiamo avuto in Piazza della Repubblica con Natale in Beach con circa 70.000 presenze grazie all'aiuto di un'impresa per l'Italia che è una situazione di categoria che ci sostiene in tutte le nostre manifestazioni, al sindaco Massimo Carillo che l'amministrazione è sempre vicina a queste tipologie di iniziative, e poi il delegato allo sport Giancarlo Presutto e l'assessore delle politiche giovanili Camino Busillo. Quest'anno per la prima volta avremo al nostro fianco il forum dei giovani ben rappresentato dall'amico Francesco Squillante e volevo ringraziare anche il nostro collaboratore Orazio Di Stefano che sarà il responsabile dei tornei anche il 16, 14, 12 e 10 e volevo dire che chiaramente siamo d'inverno, sarà un torneo indoor che si svolgerà presso il Palace Sport Sun in via dell'Atletica, che ringrazio gli amici dello Sport Sun per l'ospitalità e chiaramente per la disponibilità che ci hanno dato all'ospitalità e alla nostra manifestazione. Entriamo nello specifico, tre giorni come si svolgeranno questi tornei? Allora, questi tre tornei si svolgeranno in questa struttura indoor dove verranno allestiti i due campi uno da beach soccer e un altro da beach volley dove praticamente verranno coinvolti i bambini dai 16 ai 9 anni con audio vati da Orazio Di Stefano per la parte del beach soccer e dalla New Volley Eborum per quanto riguarda il volley e saranno tre giorni molto intensi, inizieremo di mattina e finiremo di sera con il torneo degli adulti del beach volley 4x4 e beach soccer 3x3. Dopo il grande successo dell'estate, l'entusiasmo che si è portato in Piazza della Repubblica Massimo Giusto con la città degli eventi, con un'impresa in modo particolare ha voluto dare un'ulteriore risposta alla nostra amministrazione comunale, alla nostra città ad una struttura che è ben utilizzata, che è Pala Beach e che rappresenta comunque un'eccellenza nel nostro territorio e anche un'occasione per valorizzarla alle giovani elevole e per far passare un momento anche di divertimento, di sano agonismo e ricordare sempre che Eboli può sempre di più diventare la città del beach. Assessore Carmine Busillo, Assessore delle politiche giovanili Natale in Beach la vedremo in campo 28, 29 e 30 dicembre. Sicuramente per il dileggio di chi assiste. Con un'impresa, con Massimo Giusti, con tutta l'organizzazione della città degli eventi siamo ben felici di ospitare questa ennesima manifestazione importante anche quest'anno con la partecipazione del Forum dei Giovani che con il Presidente Squillante ha messo in campo anche lui tutta una serie di iniziative e tra chi lavora ci si trova. Quindi si è trovato con Massimo Giusti che è il patron storico della manifestazione per tentare questo esperimento che sicuramente contiamo abbia un ottimo successo a Natale al coperto nelle strutture del Palaseo.